Giorgia Meloni mette nel mirino il ministro della salute Roberto Speranza. L'attacco della leader di Fratelli d'Italia è sulla gestione delle procedure per le cure Covid. Di fatto la Meloni riporta una recente ricerca pubblicata su The Lancet che sconfessa in modo chiaro la linea utilizzata in questi anni dal ministero della salute, guidato appunto da Speranza. Uno studio dell'Istituto Mario Negri pubblicato sull'autorevolea rivista scientifica The Lancet certifica che l'utilizzo di anti-infiammatori riduce del 90% le ospedalizzazioni dovute al Covid. Quanti medici hanno rivolto in vano continui appelli al ministro Speranza per rivedere i protocolli di cure domiciliari e superare la tachipirina ai vigili attesa? Ma non finisce qui. La Meloni ci caga giù duro e annuncia un provvedimento immediato che verrà preso una volta al governo. Una delle prime cose che faremo ad inizio della prossima legislatura sarà quella di istituire una commissione d'inchiesta sulla disastrosa gestione della pandemia. È arrivato il momento della trasparenza, ognuno sarà chiamato ad assumersi le proprie responsabilità. Insomma Fratelli d'Italia chiede chiarezza sulla gestione della pandemia e vuole vederci chiaro sulle scelte fatte dal ministro Speranza. Grazie a tutti.